In questo tutorial vedremo come compilare la sezione delle precedenze nella domanda di mobilità. Andando alla voce precedenze, aprendo la voce precedenze, la prima tra le precedenze più importanti è quella per i docenti che sopra numerari si sono mossi a domanda condizionato sono stati trasferiti in ufficio e hanno diritto a rientro nella scuola di propria titolarità e nel comune di propria titolarità negli otto anni successivi alla individuazione dei docenti soprannumerari. Vedete, alla voce 23 è la precedenza più importante perché sono in ordine di importanza le precedenze. Dunque andando a scegliere la provincia, Reggio Calabria e poi scegliendo il comune di precedente titolarità facendo la voce scegli scuola oppure scegli comune, il docente si fa solo se il docente è stato trasferito fuori dal comune. Scegli scuola si fa per se è rimasto all'interno del comune nella stessa scuola di titolarità. Facciamo finta che il docente sia stato trasferito in una scuola e ci voglia rientrare e dunque faccia per esempio il rientro al licio classico Campanella. Dopodiché dovrà dire anche che tipo di posto aveva all'epoca che è andato insomma al numero, se è di comune o di sostegno. Mettiamo per esempio comune. Così ha compilato questa voce di precedenza. Le altre precedenze a scendere possono essere quella per i docenti non vedenti che è una precedenza che anticipa anche le fasi, cioè un docente che si dovrebbe muovere in terza fase da Milano a Reggio Calabria avrebbe la precedenza anche sulla fase 1, dunque interviene come precedenza assoluta. Stessa cosa vale per quest'altra precedenza, la numero 25 per i docenti emodializzati. Poi c'è la precedenza riferita all'articolo 21 della legge 104, cioè per quei docenti che hanno una invalidità almeno dei due terzi e che hanno almeno l'articolo 3,1 della legge 104. Anche se non è stato di gravità, questi docenti influiscono della precedenza. Precedenza che si ripeto vale sia per la mobilità a domanda volontaria ma anche per la mobilità a domanda d'ufficio. Poi scendendo troviamo altre precedenze come le cure continuative del docente che è bisognoso, ha la necessità di cure a carattere continuativo e che deve essere chiaramente autocertificata. Poi troviamo la precedenza dell'articolo 33,6 della legge 104, il docente in stato di gravità, cioè che ha una invalidità in uno stato almeno temporaneamente di gravità. Poi l'articolo 33,5 e 7 della legge 104, un'altra precedenza che però si riferisce a figli, a coniugi, cioè il docente che ha un figlio con uno stato di assistenza perché ha uno stato di gravità o a un genitore. Per il genitore si riferisce solo alla fase provinciale perché la fase interprovinciale non gode di questa precedenza per l'assistenza ai genitori. Poi vediamo l'assistenza, la precedenza scusate, al docente che ha come coniuge un militare trasferito d'ufficio e quindi gode della preferenza per seguire nella provincia dove è stato trasferito il coniuge militare. Poi c'è la precedenza 31 che si riferisce a chi ricopre incarichi politici tipo consigliere comunale, sindaco o piuttosto che assessore in un consiglio comunale, gode della precedenza nella provincia e nel comune dove svolge il mandato politico. Infine, c'è ancora, ci sono delle precedenze tipo quella del rientro delle aspettative sindacali che ha diritto il sindacalista che rientra dalla sua attività di sindacalista, dunque rientra in ruolo a diritto a una precedenza. La precedenza per i docenti che hanno almeno tre anni di servizio sui corsi per adulti, la precedenza, la numero 34 riferita a quei docenti che hanno almeno tre anni di servizio, sono stati utilizzati nelle strutture ospedaliere, chiaramente si riferisce a una precedenza sugli istituti di carattere ospedaliero, sugli istituti carcerari come si può vedere o in precedenza sui corsi serali. Ecco, queste sono le precedenze della mobilità dei docenti. Speriamo che questo video sia utile per la compilazione della domanda, chiaramente ogni precedenza, ricordiamo, deve essere dichiarata con un'autodichierazione sotto la propria responsabilità e certificata laddove servono le certificazioni di carattere tipo i verbali della 104 in maniera oculata e molto precisa, cioè sono precedenze e quindi vanno ben documentate per poter essere poi considerate valide. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.